Domanda, come si fa a essere Macron? Ipotesi 1. Forse basta essere con Macron, amano entrambi l'Europa e l'Euro, ma uno si butta in politica e vince, l'altro dalla politica esce dopo aver perso. O forse basta vestirsi uguali a Macron o somigliargli vagamente. Uno però, cresciuto a pane e politica, nascondeva la bandiera europea in sala stampa, l'altro, che ha studiato all'ENA, ha festeggiato collino alla gioia. E allora forse basta dire stop ai partiti tradizionali, stop alla vecchia politica. Se fosse così però, noi in fondo avremmo già dato. Forza Italia, per costruire insieme un nuovo miracolo italiano.